Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. In direzione Roma l'area di servizio di Bisenzio Ovest è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori fino alle 20 del 5 ottobre chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!